ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video e niente ormai il format lo conoscete no diamo un'occhiata agli orologi perché soggetto sono gli orologi che ci inviate voi secondo soggetto cioè le persone che compongono la community che guarda i miei video non è nemmeno bello dire follower non sa di niente cioè amici del canale persone che guardano i miei video cioè ognuno ha la propria personalità le proprie scelte fa i propri gusti e ce li espone poi io un po bonariamente un po cinicamente un pochino cattivamente faccio i miei commenti no è però non dovete prenderla male siete voi che mi mandate i video chiedete un parere e io il mio parere ve lo do cioè al di fuori dai denti fuori dai denti come si suol dire no ma cosa ce ne frega si scherza anche no ci si diverte non è che dobbiamo prenderci sempre tutti sul serio qua di sapientoni e di espertoni non ce n'è no quindi divertiamoci con gli orologi adesso prima di guardare i vostri video vi faccio vedere il mio orologio del giorno che anche oggi è questo bellissimo omega c master 300 professional con il calibro omega 8800 coassiale 300 metri di impermeabilità quadrante in ossido di zirconio lunetta ghiera inserto ghiera in ceramica valvola dell'elio chi più ne ha più ne metta orologio spettacolare che al sole brilla e poi lo porto al mare no lui quando io lo porto al mare lui fa il bagno esce fuori dall'acqua che è ancora più bello proprio gli fa bene gli fai capito è come 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 se avesse fatto sesso quando entra in acqua poi dopo basta che gli accendi anche la sigaretta e sarebbe a posto veramente porto al mare fa il bagno contentissimo è bellissimo adesso bando ai discorsi inutili e passiamo al primo video ciao davide sono giuseppe da catania catania sono un tuo iscritto ti seguo da un 4 5 mesi ti faccio i complimenti per il canale grazie grazie per tutti i consigli che ci dai io quelli ascolto sempre bravo passiamo alla mia raccolta non dico collegiare perché per collegiare intendo altre cose ho visto delle collezioni c'è un po da paura con padecchi filippo e cerone così via dicendo ma non è questo il mio caso sì ma collezione è cioè non è che la collezione è più costosi sono più di pregio sono gli orologi allora si può chiamare collezione se invece sono orologi a 300 euro non si può chiamare collezione non è questo lo spartiacque la collezione è un insieme di orologi che hanno un senso da essere posseduti no gli da un senso logico che poi il senso logico gli puoi dare te al di là di tutto quello che dicono gli altri quindi collezione è qualsiasi raccolta di orologi perché se io ho 30 orologi e ne indosso uno sul polso la gente mi dice ma cosa li tiene a fare così tanti orologi no niente io colleziono orologi quindi ha un senso semantico corretto punto ti scuso mi scuso per la mia voce che è un buona ma non la posso cambiare ma non si può cambiare il primo orologio è quello la di mio nonno un orologio da tasca con la scatola originale questo qua era tutto l'oro e un 37 millimetri come 37 11 tutto bello con numeri arabi doppia cassa doppia cassa o se tripla classa come metallica 1 2 3 e questo qua e c'è scritto spirale perché con 15 rubini bello lo dovrei andare a fare a visionare revisionare però mi sembra che sia un orologio non so il valore ma comunque è ora sempre molto stretto per ricordo certo poi passiamo al mio primo orologio quello della comunione comunione questo è un review con la data tutto l'oro piccoli secondi a ore 6 all'epoca mi hanno detto che il review era come marca diciamo alla pare di l'uncinio non so se è vero o meno comunque tutto l'oro bello l'ho fatto revisionare da poco marcia che è perfetto ecco una meraviglia veramente allora tanta roba che tu perché sento sei un po attempato no lo vedo anche dal pelo bianco che è sulle mani questo qua questo pelo qua da orsacchiotto no quindi è fa piacere cioè è bello vedere un orologio che ti è stato regato la comunione quindi è un vintage che viene proprio l'è sempre posseduto per tutta la vita quindi ha un valore oltre che economico perché è d'oro tutto d'oro quindi un minimo di valore economico ce l'ha è bello vedere un orologio così quindi questo qua siamo sicuri che è tutto coerente coevo perfetto no originale è bello poi ti dici che ti avevano detto che review spero si pronunci cosù allo stesso allo stesso livello di omega e longin io questo no non credo come direbbe qualcuno perché longin e omega in quegli anni lì realizzavano calibri di manifattura propria e review non credo proprio ci sarà un calibro di fornitura dentro è più un assemblatore che una casa che si può ritenere di pregio di prestigio però è un bello orologio mi bello bello poi passiamo al mio primo diver questo qua è un subacquo 150 metri subacquo della sopior sopior come tu ben sai si li faceva una gioielleria di messina con fabbrica in svizzera fabbrica assemblata in svizzera scusami è bellissimo ho cambiato il cinturino perché insomma era tutto rotto con questo ci ho fatto di tutto pesca subacqua tuffi partite tennis partite a pallone ma davvero i miei amici per cosa lo ricordo ancora perché qua è tagliente e si graffiamo tutti completamente comunque ben ricordi veramente ora non ho capito io ho detto no addirittura perché ho dato per scontato che come come noi neofiti tu questo orologio l'hai preso magari ora un anno fa due anni fa tre anni fa quindi no un orologio vintage per fare le immersioni per giocare a tennis poi mi è venuto in mente che probabilmente non l'hai specificato però alla fine ho capito l'hai preso nel periodo in cui esisteva veramente il software gray c'è negli anni 70 cioè l'hai comprato negli anni 70 e ci hai fatto le immersioni l'hai utilizzato negli anni 70 e questo ti dà ancora più se è così mamma mia che bello cioè io sono abituato a vedere il software gray ne ho avuto i due no marchetta così che lascia il tempo che trova però è anche piacevole andare a cercare questi marchi un po sconosciuti io l'ho preso come vintage orologi di 50 anni no questo qua invece proprio lui l'ha comprato nel momento in cui esisteva veramente particolare poi andiamo all'orologio del 70 72 questo qua è uno zent selfie automatico 28 mila e 800 alternanze con la data con la data il 40 è un po macchiato mi hanno detto che di vede c'è dal colore che non tenere il 40 non lo so che cos'è però purtroppo è così è bello poi andiamo purtroppo anni del 78 questo qua andiamo un nuovato zent questo andava di moda se a quegli anni e piccolino è un 31 mm manuale e placato oro simpatico dai simpatico poi andiamo all'orologio cos'è il matrimonio questo è uno zent che mi ha regalato mia moglie questo qua è un tutto d'oro mamma mia bellissimo molto elegante non ha né seconde né data e niente purtroppo è al quarzo perché con gli anni 80 andava il quarzo non è purtroppo è quarzo ragazzi non dovete prendere tutta la lettera quando dice un quarzon no senso per sminuire cavoli uno zent tutto d'oro degli anni 80 al quarzo è un gioiello non so se mi spiego è così che doveva essere in quel momento nel quale il quarzo era all'apice del suo successo rappresentava la novità era di pregio tutti volevano l'orologio al quarzo cioè andavano ma è al quarzo l'orologio sì allora lo compro cioè funzionava così quindi uno zent al quarto degli anni 80 completamente d'oro regalo per matrimonio cioè top hai capito è questo che deve essere non purtroppo non purtroppo cioè dovete contestualizzare le situazioni il bracciale tutto l'oro con una maglia bellissima veramente bella molto fine e la chiusura veramente lo metto ben volentieri certo poi andiamo fine anni 80 così inizio anni 90 abbiamo questo longin o sempre loro questo va a differenza di quello già il datario e piccoli dei conti secondi ormai non piccoli centrali c'è tra questo questo a ribbie tutto l'oro bello con giacca e cravatta e polsini sia questo per quello fanno la sua figura è certo poi passiamo anni 92 93 questo qua è il mitico aqualand 1 della citizen il promaster bellissimo con questo ci ho fatto sempre a mare di tutto questo è il 6 viti e oggi come oggi lo fanno però non è più con lo stesso meccanismo è tutt'altra cosa va bene più scadente rispetto a questo poi abbiamo cosa anni 2000 abbiamo sempre un citizen un pilot radio controllato ci sta e dire che è perfetto e precisissimo ogni notte alle 3 prende il segnale è perfetto ci sta perché mi stai facendo mi sono reso conto che mi stai facendo tutta la storia della tua vita praticamente con gli orologi orologio dopo anno dopo anno comunione matrimonio anni 2000 il citizen pilot in titanio radio controllato ci sta a pennello no io non lo comprerei oggi non lo comprerei non lo voglio non mi interessa non mi interessa però negli anni 2000 era il non plus ultra è fatto bene cioè ci sta proprio perfettamente e me lo tengo perché mi piace poi andiamo con la cionfega come dici te ero in un negozio ferrari e volare un ferrari al quarzo tutto con i tre contatori come sono più di contatori questi di qua ci sta andando benissimo quindi come come è piaciuto e l'opera niente di che poi andiamo poi andiamo nel 2010 questo film watch acciaio è placato oro questo è un clone diciamo del deity just ma comunque bello non è un clone dai purtroppo è un quarto anche questo però mi piace ecco in questo caso purtroppo al quarto ci sta invece cioè nel senso nel 2010 così no philip watch non ha un senso un orologio al quarto che poi riprende non è un clone ma riprende grandi linee il del jazz no vabbè forse è il punto più basso della tua collezione diciamo così ma niente di che per l'amor del cielo fa la sua figura poi abbiamo 2020 così abbiamo questo g sciocco con questo è veramente un car armato una bestia proprio spesso massiccio questo qua è tutto in carbonio bello fa di tutto comunque è sempre una cosa che mi metto sempre a mare e per le battaglie diciamo ecco in un altro in un altro contesto in un'altra collezione io avrei preso in giro il g shock no l'avrei preso un po in giro scherzando buonariamente in questo caso invece no perché mi stai mostrando il 2020 no il 2010 il 2000 il pilot della citizen 2020 il g shock cioè erano tutte situazioni nelle quali uno poteva anche essere incuriosito dal volerlo per fare per continuare quel percorso che inizia con gli orologi meccanici degli anni 60 per amore del cielo poi andiamo questo qua il giocattolino questo l'ho preso a dubai perché in italia non si trova mai non si trova a dubai stesso non genererai ne portavano 60 al giorno io sono arrivato per miracolo non ce ne erano più e una persona mi ha offerto mille euro per quel taglio ma non glielo ho dato perché non mi interessavano i soldi poi andiamo con i consigli tuoi abbiamo un sito in zera promaster full volume bello siamo qua dei 7 minuti scusa ma io faccio ricorsa un 6.5 gmt meravigliosa e l'ultimo che hai mai consigliato tu un glissini combat sub stupendo che lo proverò a amare questa estate e lo metto con piacere mi manca un cronometro ho visto un tuo video i 7 cronometro entro i 500 euro ma mi era piaciuto uno strema cosmos automatico ma non lo fanno più mi può dare un consiglio su qualche automatico economico vendole mille euro grazie ciao a tutti e che buona sera ciao 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 niente che dire ragazzi la tua collezione io gli do personalmente un bel 9 9 un bel 9 perché cioè mi piace l'idea del tempo che passa con gli orologi che te li sei acquistati nel tempo non è che hai preso tutto subito adesso e mette in mostra la scelta del momento cioè negli anni 90 quel tale orologio negli anni 2000 quel tale tipo di orologio nel 2010 quell'altro e per giungere poi ora alla fine dove si vede che sei chiaramente condizioni non condizioni influenzato dal mainstream no che gira ma è giusto così perché ce l'ho avuto anche io quegli orologi lì del glissin il promaster il secco 5 è proprio se ti sei carato nella parte del contemporaneo dell'appassionato contemporaneo per me è un 9 nonostante un top dato così però questa sta dimostrazione che non sono i top che fanno la qualità di uno di una collezione ma come la si fa quali sono le motivazioni che ci sono dietro ok poi mi chiedi il discorso lì sul cronografo meccanico sotto i 1000 euro ce ne sono veramente cioè non me ne vengono in mente mi vengono in mente sempre i soliti cronografi con il sigal st19 che per amore di cielo va benissimo però al momento non me ne viene in mente nemmeno uno sotto i 1000 euro perché veramente i prezzi si sono alzati io personalmente visto che te sei un appassionato di lungo corso che ha orologi vintage perché sono diventati vintage con te a questo punto potresti anche prendere un vintage anche se lo strela lì non è più in produzione e prendilo usato cioè non serve andare veramente nel vintage ci sono orologi russi o sedicenti tali che costano sicuramente sotto i 1000 euro io oserei dire anche torno alle 500 ora te cosa devi fare devi andare a cercare vai su ebay è il primo che mi viene in mente poi dopo perché si può fare la ricerca e cerchi poliot 3133 fai questa scritta ti viene fuori tutta una serie di orologi che incassano il 3133 che è il calibro cronografico russo che ora non è più in produzione ma usati o vintage li trovi e lì ti puoi sbizzarire tra le varie marche varie aspetti di orologio fai così così ti togli lo sfizio di un cronografo meccanico a carica manuale chiaramente da mettere la collezione e poi ci sta bene insieme al resto no bravo buongiorno a tutti gli amici del canale sono giorno federico mi presento con un nuovo video vai allora questo è l'ultimo acchiappo un po tecchili contro scatola dice già qualcosa apriamo apriamo bella scatola ecco qua possiamo sfilare il cofanetto che presenta la sua croce di calatrava calatrava chiudi un po dai veloce bene allora arretriamo e andiamo ad aprire vai ecco qua ecco qui il gioiello e che simpaticone questo ma che simpatico bellissimo calaiosa quindi è un calatrava zuiosa bravo un bellissimo orologio certo lo sfiliamo sfiliamo potete notare la bella cassa da 40 di buona fattura un ottimo quadrante soleil con questo blu molto molto bello gli indici applicati e un fondello trasparente che mette in mostra il suo calibro bravo un bell'oggetto ragazzi sto scherzando ovviamente ma questo video vuole essere un po una provocazione nel senso che mi ritengo un appassionato e nonostante abbia acquistato vari orologi di vari marchi sono rimasto comunque affascinato da questo orologio che ritengo per una serie di motivi essere comunque un orologio interessante con un rapporto qualità prezzo ma questo lo sappiamo già benissimo che è validissimo e è un orologio che ha una sua estetica perché ovviamente ha in sé alcuni tratti degli orologi più iconici se vogliamo non voglio usare il termine iconico perché so che lo detesti davide però mi è scappato il design riprende un po i bracciali integrati di disegno gentiano massi la cassa è molto molto simile a quella di un oster quartz quasi identica il bracciale è molto simile a un president quindi l'orologio in sé agli stilemi per per essere definito comunque un orologio piacevole da vedere piaccione adesso diamo lo spazio invece al vero protagonista di quella scatola chissà cosa eccolo qua spada boom guardiamo scatola da viaggio apriamo eccolo lì eccolo qua mamma mia questo qui è un patek philippe calatrava è un orologio del 2021 che sono riuscito ad acquistare a un prezzo abbastanza come dici tu davide abbastanza buono quanto dire un orologio che va a coronare un po quella che è la mia collezione va a completarla se non altro mi mancava al marchio patek è stata un po una mezza follia però sono sono contento il calatrava è un orologio iper classico so che tu non li ami questi orologi ma come però ti dico che ma chi te l'ha detto che non amo che chi te l'ha detto che non amo gli orologi iper classici questo qua quadrante e simmetrico alla perfezione piccoli secondi sfere d'offen in oro bianco quadrante nero mamma mia cioè come no è uno di quegli orologi che ogni tanto vado a vedere su crono 24 vado lì guardo vedo il prezzo giro dico andiamo a vedere qualcos'altro ma allora non mi segui veramente io ho dei gusti classici veramente quasi da posizione del missionario veramente e dal vivo fa 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 una bellissima presenza e certo e la cassa è in oro bianco con questo effetto anzi questa lavorazione clou de paris sulla lunetta molto molto bella il quadrante come potete vedere e cangiante nel senso che ha una finitura nasce grigio antracite che è una finitura per cui in determinati momenti può sembrare nero e poi passa addirittura a un grigio molto chiaro bella lavorazione è un quadrante che mi è piaciuto molto è un po se vogliamo stregato è sicuramente una cassa abbondante come diametro perché un 40 quando un orologio di questo stile andrebbe sicuramente riportato a un diametro 38 per lo meno ma questi sono gusti e comunque il mercato avrà deciso per patek se non altro la cassa di diametro elevato rende ancora più notevole il limitato spessore della cassa stessa si può vedere che proprio particolarmente sottile chiaramente stiamo parlando di un calibro a carica manuale e infatti eccolo qua nella sua nel suo splendore devo dire un altro top al calibro mai posseduto prima un patek sinceramente le finiture da amante di giugno trovo che le finiture sono migliori di quelle di giugno che già risulta essere un ottimo un ottimo costruttore niente vi saluto tutti e vi lascio appunto con la mia provocazione con il mio calaiosa calai un saluto ciao 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 non è per nulla la provocazione l'ho appena detto nel video precedente che non è il valore economico o anche il pregio delle componenti che fa l'orologio ma come ci si pone noi nei confronti di questo simpatico hubby come diceva mike buongiorno perché gli orologi sono tutti belli anche a me mi piacciono gli orologi da da 6.000 euro e quelli da 300 cioè non cambia cioè si cambia nel senso che vuoi sempre arrivare a qualcosa di più costoso qualcosa di più di pregio per poter averlo provarlo direcelo no però poi nella realtà dei fatti spesso si indossano più volentieri più si indossano più spesso gli orologi che vanno dei 1000 2000 3000 400 400 euro 500 euro si indossano più spesso quelli no un motivo ci sarà cioè non è detto che più costoso di pregio è l'orologio più lo si indossa volentieri certo lo si vuole quello si lo si vuole lo si vuole assolutamente e te come l'altro amico avete la passione per gli orologi dello zio iosa 300 euro e catrava da 40.000 euro quanto costerà non non ricordo nemmeno perché io giro pagina quando vedo i prezzi la tua collezione 9 gli do 9 esattamente come abbiamo dato 9 all'altro amico del canale che però non aveva il patek filip ecco fatto come vedete non è il prezzo a fare il voto della collezione e la collezione stessa non ci frega niente è come ci poniamo noi nei confronti degli orologi ciao davide sono stefano dalla provincia di fermo fermo nel dirti che ti stimo vado a mostrarti la mia collezione di orologi e metto che sono sempre stato un appassionato fin da ragazzino ci sta appassionato un parolone però mi sono sempre piaciuto i orologi cioè buste buste di di ciambrusaglie di di cose che nemmeno ti mostro perché sarebbero solo pane per le tue cioffeche e poi quello che mi ha svoltato e che mi ha fatto anche conoscere te è stato lui o mega speed master top moon watch meraviglioso orologio bello stupendo non ho vissuto nessuna presentazione visto rivisto nel tuo canale ma è bellissimo orologio che amo che adoro quello indosso spessissimo e che è bello appunto certo e da lì ho conosciuto te che sei stato il mio uguaglio la mia rovia ho iniziato ad appassionarmi a questo fantastico mondo e così ho iniziato a comprare a spendere soldi vai buttali via pro ma lui citizen pro master ho preso questo un quadrante tutto nero nella prima versione poi tanto che mi è piaciuto questo questo citizen ne ho preso anche la versione nuova il marine questo molto bello il quadrante giallo fatto veramente bene anche se quasi preferisco più lui è più iconico classico più anni 90 poi di citizen ho anche ecodrive a batteria questo particolare perché ha calendario perpetuo è scarico si imposta anche l'ora legale con l'ora solare si può impostare in automatico va avanti non per no forse 2010 carino tutto in titanio un bel quadrante particolare è bello mi piace poi ti faccio vedere una marca che mi è piaciuta molto che è la zelos ho preso questo swordfish swordfish bello sì zelos lavora bene fatto bene bel cinturino bel quadrante simpatico un altro un altro zelos sempre swordfish field 38 mm cassa in bronzo bronzo questo fatto molto bene bronzo chiaro non so se lo conosci ho preso questo micro brand che si chiama vertigo eh sì che lo conosco mi aveva colpito il quadrante veramente molto bello ipnotico bello fatto bene insomma le st 19 quello qua con un movimento manuale sigal semplice ma affascinante da vedere per quanto costa l'amico di prima magari per quadrante costa meno di mille no possibile poi dai nostri amici di pasquale domenici ho preso questo cacchi field emilton cacchi field bravo un vecchio con una offerta che c'era qualche anno fa è un classico molto bello sappiamo tisso prx quadrante verde l'orologio fatto molto molto bene certo qualità prezzo penso quasi imbattibile ora ti faccio vedere i miei tre lungini o tre addirittura allora l'idroconquest cronoma se si parla argento lancette rosse ma mi fa pazzire no mi fa pazzire molto particolare avuto una disavventura con questo orologio con la con la garanzia praticamente mi si era staccato il tastino del cronomero e avevo la corona che si avvitava molto male faceva fatica ho mandato in assistenza tramite la gioielleria dove l'avevo acquistato e se se lo sono tenuto tre mesi giustamente come come è tornato l'ho indossato tempo un'ora un'ora e un quarto circa e se si è fermato subito e quindi riporto in gioielleria l'hanno rimandato in assistenza altri circa quattro mesi ora è tornato bello succede presente è molto presente al polso quasi una arma però mi piace molto succede che magari l'assistenza lascia un po a desiderare o lascia desiderare gli intoppi succedono con qualsiasi marchio da rolex a patec qualsiasi marchio succedono quindi non è che c'è a dire non comprerò più quello marchio lì perché va fa così no succede con tutti il discorso è che longina la garanzia di longina potresti direttamente tu mandarlo a longina anzi se non erro vengono anche a prendersi la casa non sono sicuro però puoi farla puoi farla tu la spedizione e saltare direttamente la gioielleria perché io ti dico ora a voler pensare male no tre mesi quattro mesi è un tempo che però te sei sicuro che loro l'abbiano mandato al centro di assistenza dei swatch group a milano o non abbiano utilizzato un loro orologiaio di servizio non lo sai o lo sai in ogni caso se te lo mandi direttamente a milano salti il passaggio della gioielleria magari quel tempo d'attesa di loro che farò da tramite non c'è il record record è un orologio che mi piace tantissimo molto elegante molto sottile guarda con quel bel anorologio molto sottovalutato secondo me perché è una presenza molto importante al polso sì le lancette argento lo reggono poco leggibile ma ci se ne frega veramente bello al sole fa degli effetti meravigliosi l'avevo addocchiato anch'io bello e ultimo non per importanza il longin legend diver bronzo cassa in titanio cioè cassa in bronzo fondello in titanio il suo cinturino il secondo cinturino in dotazione che è questo nato verde si vede che è fatto bene il nato bellissimo questo orologio lo adoro senza data e niente ho finito ti saluto un abbraccio un abbraccio ciao un abbraccio ciao il legend diver in bronzo è l'unico dei 42 mm che non ha una data quello lo rende ancora più appetibile poi al suo perché un diver di questo tipo così con doppia corona in bronzo secondo me è bello poi guardavo il cinturino nato si vede quando i nato sono originali di una marca che può essere logico e può essere tudor chi vi pare a voi sono fatti meglio di quelli che si comprano in commercio così è sicuramente sì dai la collezione che la tua gli do un bel 7 e mezzo 7 e mezzo è composta tutta da orologi interessanti sia economici che meno economici come il legend diver che costa abbastanzina lo speedmaster i vari longini il record l'ho sempre adocchiato anch'io il longini record è certificato cronometro ed è sempre è sempre stato lì in quel periodo lì quando dovevo scegliere scelsi scelsi il tudor 1926 che poi se guardate abbastanza simile con quell'idea di numeri pari no 12 2 4 6 alternati agli indici scelsi il tudor 1926 che poi ho venduto non ce l'ho più e lasciare indietro lui ma vale la pena vale la pena tenerlo in considerazione ciao davide ciao giorno giorno sono francesco da rezzo complimenti per il canale dove grazie dei spunti interessanti imparo sempre qualcosa di più in orologeria mi sono appassionato di orologi negli ultimi due anni ti faccio vedere alcuni appunto dei miei orologi e di mio papà ora iniziare con un orologio al quarzo questo è un diesel che mi aveva regalato la mia attuale compagna mamma mia diciamo lo mettevo una decina di anni fa quindi per me non è importante comunque valore affettivo affettivo ci sta dopodiché un orologio che ho indossato diciamo negli ultimi dieci anni un casio ci sciocca ricarica solare e mi ha seguito molto nei miei viaggi e anche nella vita di tutti i giorni io sono anche un appassionato di fotografia naturalistica e quindi me lo sono portato dietro con me bravo poi un paio d'anni fa deciso che volevo cambiare orologio non ne sapevo diciamo niente o poco di orologi mi sono messo un po a studiare mi sono imbattuto in una rivista che parlava di panerai e insieme a mio papà che mi ha accompagnato appunto mi ha detto vabbè ti regalo un orologio se ti piace non ti ho ancora mai regalato un orologio importante sono andati siamo in boutique a firenze da panerai non avevo bene idea di un modello anche anche se mi piacevano diciamo la cassa da 44 mm e luminor non mi piaceva molto la scritta panera automatic che appunto quella di carica manuale la cassa bettarini tutta lucida anche questa non mi piaceva molto ho trovato questa referenza che mi è stata presentata gmt è appunto un gmt su 12 ore anche la riserva di carica comunque può tornare utile orologio con un quadrante a sandwich e questo l'ho indossato diciamo prende tutti i giorni nell'ultimo anno e mezzo e ho messo via via cambio anche cinturino perché comunque questo la possibilità di uno sgancio rapido e questo è un cinturino in squalo prodotto da un'azienda ferentina le cuoierie meccaniche brelli che in passato hanno lavorato anche ufficialmente con panerai bello è un bel orologio mi piace devo dire che è moderna contemporanea non si vede anche dal calibro dal fondello trasparente che è finito in maniera contemporanea non è certo un calibro classico come finiture gmt poi vedrai che molti puristi panerai paneristi ti diranno che panerai non deve essere gmt deve essere un solo tempo no ma sinceramente non mi interessa nemmeno più di tanto non mi piace tanto nel senso che c'è non mi piace tanto bellissimo lo vorrei però già il gmt costa più del suo tempo quindi perché spendere tanti soldi per in più per una funzione che non mi interessa più di tanto poi va a sostituire a ore 9 la sfera gmt delle ore va a sostituire quella dei secondi continui mi piacerebbe più i secondi continui mentre trovo veramente utile e interessante che dovrebbe essere messa per legge proprio per legge legge cecchini la riserva di carica sugli orologi che così puoi vedere a che punto è a carica manuale l'orologino vabbè mi piace questo pagare comunque dopo di che ti faccio vedere un altro orologio importante che ho regolato invece io questa volta mio padre in occasione il suo settantesimo mi sono messo un po a studiare di cronografia in particolare di pilot che mi piacevano evc e ho deciso di regalargli questo evc crono quadrante blu questo appunto è l'ultima referenza con il movimento di fatti di manifattura della serie 69 mila reputo un bello orologio vabbè iconico sicuramente per quanto riguarda i pilot molto carina anche la secondina rossa a ore 6 i secondi continui bellini dopodiché faccio vedere un orologio a cui sono legato dal punto di vista affettivo questo mi è stato regalato dai miei nonni paterni per la mia comunione quindi questo circa 25 anni fa orologio tutto in oro sia cassa che bracciale monta un 77 50 prodotto una ditta ora fa retina una r quindi non ha niente a che fare come con gli orologi però questo l'ho fatto lucidare ho dato una risistemata in passato l'aveva messo un po mio padre e qualche volta lo indosso che botta un orologio tutto in oro massiccio un cronografo così spesso solamente di oro ti costerà un rene mamma mia poi peccato vabbè peccato è un regalo della comunione quindi non è che il marchio cioè è artigianale diciamo è un orologio artigianale assemblato da 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 non ho nemmeno idea come sia come abbiano fatto comunque costoso come minimo costoso cioè di solito poi la comunione si regala un solo tempo sottile no l'orologio della comunione no poi gli hai regalato cioè è impossibile indossarlo quello l'orologio lì d'oro quando l'ho visto è placato no è d'oro cazzo d'oro dopodiché andiamo ad alcuni diciamo vintage questo è un lanco un orologio da tasca che apparteneva a mio nonno diceva di averlo preso tedesco anche la seconda guerra mondiale a te che per l'orologio che ancora funziona l'angendo un orologio che apparteneva alla mia bizzia che è andata qualche anno fa comunque aveva quasi cento anni e un viller vetta al quarzo placato oro qui vedo la scritta quartz flatline un orologio molto sottile sempre molto piccolo comunque come cassa e poi un orologio che apparteneva a mio nonno questo l'andosso qualche volta mio padre un lorenzo lorenzo al quarzo anche questo cassa oro 18 carati di oro ma e poi ti vorrei far vedere per allora questo un acquisto ho fatto io qualche mese fa mi diciamo questo regalo cos'è e perché è andato in cucina questo explorer 36 mm mi piaceva la variante acciaio e oro nonostante diciamo sia un po criticata perché l'explorer dovrebbe essere un tool watch anche se in passato comunque ci sono state delle referenze in oro comunque diciamo a me non mi interessa un orologio che mi piace e lo indosso con soddisfazione con soddisfazione io con questo ho concluso ti ringrazio davide per il tempo che mi dedicherai nel tuo canale certo un caro saluto a te e a tutti gli amici del canale a presto a presto ciao 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 ma credo sia la prima volta che vediamo sul canale un explorer acciaio e oro quella nuova referenza non è una scelta che va per la maggiore diciamo la verità perché sì in effetti cioè a me piacciono gli orologi in acciaio e oro piacciono però l'explorer così fatico un pochino a farlo andar giù però io non avevo dubbi che che sarebbe stata la tua scelta perché a vedere tutti gli altri orologi d'oro oro 18 carati oro completo cioè ci tieni a questo materiale poi per il resto non mi ricordo più nemmeno gli orologini che ci sono fai un po vedere sì a parte a parte bene a beh il panerai ci abbiamo qua e l'ivc dai il lanco della seconda guerra mondiale un bel rolex explorer un bel otto e mezzo non te lo toglie nessuno è una bella collezione bella non numerosa ma con orologi moderni di valore i vc panerai rolex e orologi vintage che vanno a pescare a piene mani cioè il lanco degli anni 40 da tasca e tanta roba poi stendiamo un velo un velo pietoso sul primo lì cos'era il fossile non mi ricordo nemmeno lì si stende un velo pietoso comunque si è promosso da grazie per aver mandato il video e poi si vede che sei fotografo perché le luci erano perfette proprio bravo bravo boh ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto io devo andare su instagram a vedere i video dei gattini a sfogliare guardare questi gatti che saltano da un punto all'altro miau 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 poi fanno i salti fanno quei salti sono simpatici vi ringrazio per essere arrivati fino qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube l'abbiamo 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 l'abbiamo